Si è insediato ufficialmente ieri pomeriggio il nuovo Consiglio Comunale di Ponte Cagnano-Faiano. La seduta, oltre agli atti formali, ha visto la ratifica del bilancio consuntivo 2017 e l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. A sedere sullo scranno più alto del parlamentino è il consigliere di sveglia Dario Vaccaro, votato all'unanimità da tutta l'Assemblea. Sua vice Rosa Lembo, esponente di Campania Libera. È un risultato storico ed è sicuramente un'ulteriore responsabilità. Sono alla prima esperienza in Consiglio Comunale, il primo Presidente è il consigliere anziano, quindi questo già vita la misura. Nonostante sia un termine riferito al risultato elettorale, di solito per prassi il Presidente è sempre la persona con più esperienza. Invece abbiamo deciso di fare un'inversione di rotta, anche questo è un segnale, anche questo nel senso del cambiamento. Ed è un doppio segnale perché questa elezione all'unanimità è un segnale che cogliamo anche da parte della minoranza. È un impegno in più che io mi prenderò di essere il Presidente di tutti, non il Presidente della maggioranza, non il Presidente del Sindaco come è accaduto alcune volte in passato. Quali sono i suoi obiettivi da Presidente? Guardi, sicuramente c'è da fare un grosso lavoro per riunire questa comunità che va riunita fuori e va riunita dentro il Consiglio Comunale. Quindi io mi prenderò sicuramente questa responsabilità. È cominciata una fase nuova, una fase nuova per la città, per la maggioranza, ma anche per l'opposizione, perché c'è un Consiglio Comunale fortemente rinnovato. Quindi il mio compito sarà riportare quell'equilibrio, quella imparzialità che troppo spesso è mancata negli ultimi anni nell'assise comunale.